Buongiorno a tutti! Mi sono Diego Buttiglione, e sono gli italiani chef di Bussarevoli. Adesso vi faccio le scarcelle pugliesi. Tradizionali, deserti, nelle regioni Puglia. In questo caso, ci sono i miei ricordi, che sono i miei ricordi. Prospero Plus. Questo è il tuo comple taxi. Bevere. Bevere il comple taxi. Blenderie. D.D. Blenderie. Ora, sono i miei ricordi. Open. Puto in place. Preto da andare. E così. Alla, ed è sette. Ora sono tutti i miei ricordi, e sono i miei ricordi. Sono i miei ricordi di cioppi. Sono i miei ricordi. Sono i miei ricordi, se le faccia sono i miei ricordi. Sono i miei ricordi. Sono gli ricordi di essere i miei ricordi, di essere i miei ricordi. c'è l'electrojuiceri e sarei pasta, pizza, cacciapuri mellore, cay, ragorché un vudi e sarei desserti, creamy we're gonna use today, dress, dress chiede sarei meno frusta, la frusta e sarei che un vudi attassivati e sarei oltre quindi una grande capienza quanto la capa me le mettiamo a bollire adesso prendiamo il nostro Cairnwood Prospero Plus cuta si chiamano prelie baking powder da shakari quindi c'è un vudi K mixi mixi us dati secondi ok ecco quindi ci viene i limoni ushi-washy ecco quindi i limoni cedra mamma mia che hai sogno eh limoni sicilia cos'era cos'era malfitana ecco la don't throw away non lo buttate ecco la e ti quersi zotta sbatti sbatti bene nela 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 quersi quersi smere quersi smere nela nela a filo sbatti smere Zee, eh? Zee, eh? Zee, eh? Zee, eh? Zee di smere? Zee, essere nella nella, a filo. Ho rizzutti, mere, imito c'è ogni canvù di zan, magari zan, eh? Ho rizzutti, eh? Ready? Pronto. C'è un insomma, guarda. Pellicola trasparente, c'è un insomma, è pronto. Eccola, ho sdati zuti, temperatura ambiente. Aspettiamo. Ho sdati zuti, mere, qua, let's start to rollie rollie. We'll cut a little bit. Eccola quindi da sami rollie. E ti rolli samos da 2 metri grammi. Con i polpastrelli, spendiamo piano piano. Ok, and you do nuts navi. Me, ah, 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 ah. Like, I cannot do to myself but you guys go to go to mezzanava. Ah, 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 ah. Eccola truini, skarchella, zada. We put into the baking place. And man, I took the egg, ho preso l'uovo, e l'ho colorato. Ah, via la mangi. Imito cartuoli easter, cartuoli pasqua. We take our scarccella, mettiamo la scarccella al posto, uno spazio, prendiamo l'uovo, erla in the oven, nel forno, almost ati tzuti, 180 gradi. Almost ati tzuti, gavita, stavi detto, esseri, cioè nei risultati, erla, wait, aspettiamo che si raffredda. Mentre si raffredda, facciamo la crema, we change dalla foglia, wispy wispy, erla guinda ha almost dati grammi quersi tzuti, cioè nei, you remember, ti ricordi il limone di prima? Tutti i grammi, limoni. Ok, quando vediamo spumi spumi, a little bit softy, we can put our no splashy thing, because now we're going to add sugar. La nostra glassa è pronta. Do you like that the cream is going down? La nostra scarccella con tutta la glassa colante è pronta, mettiamo gli ultimi tocchini. E la nostra scarccella pugliese, qui a Tbilisi in Georgia, è pronta per voi, con un tocco georgiano, questo uovo rosso, come da vostra tradizione. Grazie a tutti, spero vi sia piaciuta questa bellissima ricetta mia pugliese, della mia regione, è piena di tradizione, è un po' di mix Georgia-Italia. Quella informazia, esseri, zamagai, kemudi, scesleba, lingze, droi bit. Grazie a tutti.